Continua con successo la rassegna teatrale orlandina. Ieri sera il Cineteatro Rosso di San Secondo ha applaudito Ettore Bassi e la sua splendida interpretazione nel sindaco pescatore, la storia di Angelo Vassallo, sindaco del comune campano di Pollica, ucciso nel settembre 2010 in un attentato di origine caporristica. Scelta eccellente del direttore artistico della rassegna Salvatore Monastra, che ha portato a capo d'Orlando una storia reinterpretata in chiave teatrale, resta nota al grande pubblico con il film Rai, in cui il protagonista era interpretato da Sergio Castellitto. Bisogna cercare di sfruttare i vantaggi teatrali, sicuramente l'empatia con il pubblico e riuscire a riportare quell'emozione che i gesti di Angelo, che le sue opinioni portavano, era una cosa importante per me. E quindi ho cercato proprio di riportare esattamente la sua essenza, senza badare troppo ad altri fronzoli, ma era più importante portare l'asciuttezza di quello che era lui. Il teatro serve a conoscere e conoscere è importante per non dimenticare, soprattutto storie come questa, che sono esemplari e purtroppo diventano esemplari poi quando finiscono tragicamente o quando c'è un motivo per ricordarle in maniera drammatica. Bisognerebbe avere la forza e la coscienza di ricordarle finché esistono, finché sono in vita. E quindi il teatro è chiamato a questo e questo è il nostro obiettivo. La Fortuna Terrassegna Capodorlando Theater si chiuderà il 27 aprile con lo spettacolo Sinfonia Mediterranea. Ecco, questa è una cosa importante, le mani nella merda, bisogna mettercene, bisogna mettercene fino ai gomiti, fino alle spalle, fino a dove servono.